La prima domanda che mi viene in mente è che si indicano spesso gli anni 60 e 70 come gli anni d'oro un po' dei movimenti e del movimentismo, movimenti che hanno oltretutto costruito molto le basi del terzo settore che oggi abbiamo, ma fu l'unica età così generativa in termini di rapporto tra movimenti e ricadute e sviluppi sociali e al netto delle ovvie, e questa è la seconda parte della domanda, al netto delle ovvie differenze del sostrato sia ideologico sia economico, c'è un tratto comune che ha ritrovato in tutti i movimenti di ieri e di oggi che lei ha avuto modo di studiare? Allora, parto dalla prima domanda, quindi più storica. Ci sono stati secondo me varie ondate importanti per vari movimenti, quindi non parlerei di un'età d'oro, soprattutto bisognerebbe definire in quale contesto geografico, perché se pensiamo all'Europa c'è un certo tipo di cronologia, se guardiamo al sud del mondo ci sono altri momenti e movimenti che sono stati importanti. E i movimenti in alcuni casi hanno prodotto ondate globali, in altri casi non sono stati sincronizzati, quindi per esempio gli studiosi di movimento operaio dicono l'impressione che il movimento operaio fosse cooptato o in declino viene dal fatto che è stata concentrata l'attenzione sull'Europa. Se si fosse guardato al sud del mondo si sarebbe visto invece che molti paesi avevano movimenti di lavoratori consistenti e soprattutto che erano movimenti che sono stati importanti anche per processi che andavano al di là del processo del lavoro. Quindi noi abbiamo delle ondate, il 68 e anni 70 è stata un'ondata in cui i movimenti sociali avevano anche spesso delle visioni piuttosto radicali di trasformazioni possibili, quindi c'era ancora una grossa utopia, c'era un posporre un po' le aspettative di realizzazione dei propri obiettivi alla, non dico necessariamente una rivoluzione come quelle russo-cinesi, ma un momento di profonda trasformazione, quindi anche si pensava superamento del capitalismo, eccetera. Questo tipo di movimenti hanno avuto effetti, senz'altro perché se pensiamo anche dal punto di vista culturale alle trasformazioni che ci sono state sia nei diritti delle donne, nei diritti di genere, nei diritti anche di partecipazione politica, di democrazia, se guardiamo anche alle riforme sul tema del lavoro o pensiamo a una riforma che in questo momento si evidenzia come particolarmente importante, come quella della sanità pubblica. Tutte queste sono riforme che se guardiamo all'Italia sono state effetto di movimenti con forte partecipazione. Pensiamo al divorzio, pensiamo all'aborto, pensiamo alla scuola, all'apertura della scuola, non dico che si sia superata una selettività all'interno della scuola, però è tutto un altro tipo di processo. Quindi quello che gli studiosi del welfare hanno detto è che negli anni 60, inizio anni 70, era l'età d'oro del welfare state. È il momento in cui, come quasi eccezione nella storia, le diseguaglianze sociali declinavano. E non solo in democrazie, perché c'era anche, sia nel sud del mondo, una forma di nazionalismo socialista, non nazismo, ma diciamo, e dall'altra anche nei paesi dell'area sovietica, gli interventi sui temi sociali erano consistenti. Quindi era un periodo in cui si andava verso un maggiore riconoscimento di protezione sociale, eccetera. Poi ci sono stati però ondate di proteste importanti anche in altri periodi. Basta pensare alle proteste del movimento pacifista all'inizio degli anni 80 o ai movimenti antinucleari, ambientalisti, movimento delle donne. Quindi c'è stato un fiorire di movimenti, tanto che gli studiosi di movimenti sociali hanno parlato di società dei movimenti e si è osservato anche che c'è stato una sorta di rovesciamento nella percentuale di cittadini che utilizzavano forme di protesta. Quindi quello che abbiamo visto è stato un moltiplicarsi di forme di protesta su diversi obiettivi, appunto anni 80, grande movimento per la pace e tutti questi movimenti non da soli ma insieme ad altri attori, sia attori politici che attori di società civile che magari utilizzano forme più convenzionali di partecipazione però hanno ottenuto dei risultati. Ecco, stavo dicendo, gli studi sulla partecipazione politica nel nostro paese, gli studi di Ilvo Diamante, per esempio, hanno indicato che soprattutto negli anni 90, mentre scendeva il numero di cittadini che partecipavano attraverso forme di partecipazione convenzionale come l'escrizione ai partiti, il votare, eccetera. C'era invece una crescente partecipazione nelle forme non convenzionali di protesta di tipo diverso da quelle più di azione diretta come potevano essere occupazioni o blocchi stradali e quelle anche come petizioni. Poi si sono introdotte anche le forme di partecipazione attraverso i social media, i nuovi media prima, eccetera. Quindi c'è stato questo incremento della partecipazione che ha anche un effetto cumulativo dei movimenti che sono venuti. E per quanto riguarda il volontariato, in particolare in Italia, ma non solo in Italia, è stato osservato anche che man mano che declinava la capacità di presenza nella società dei partiti politici, un effetto quasi di compensazione era l'attenzione e la partecipazione in associazioni di volontariato. In Italia questo è stato accentuato negli anni 90 perché con l'inchiesta Mani Pulite, con l'emergere degli episodi di corruzione, c'è stato un allontanamento dalla politica partitica e le giovani generazioni avevano invece una maggiore propensione a investire questo è il loro impegno sia nel volontariato sia anche all'interno di movimenti sociali diversi. E la mia impressione è che di recente ci sia stata anche dire un po' un ridursi dei confini tra diversi tipi di attività. Cioè per esempio se pensiamo alle attività in solidarietà ai migranti o alle attività durante la pandemia molto spesso il confine tra un intervento di volontariato diciamo orientato all'aiuto alle persone è un intervento di movimento sociale più di advocacy, di denuncia eccetera. Ecco questa differenza si è ridotta perché abbiamo visto da un lato che le organizzazioni di movimento sociale sempre più intervenivano anche attraverso azioni di solidarietà concreta pensiamo al Mediterraneo per esempio e dall'altro con una sorta di criminalizzazione delle attività anche del volontariato per esempio del volontariato sui migranti anche alcune di quelle organizzazioni che sembravano tra le più strutturate nel mondo del volontariato e anche le più legittimate e accettate in generale pensiamo a Medici Senza Frontiere per esempio sono state le organizzazioni delle organizzazioni definite nelle campagne del ministro dell'interno Salvini allora eccetera come colluse criminali eccetera quindi la reazione e comunque l'evoluzione è stata verso una ovviamente ci sono ancora organizzazioni che sono più chiaramente definibili come organizzazioni di volontariato altre che adoperano più forme di protesta ma ce ne sono molte ibride infatti ma io avevo questa domanda molte volte appunto c'è un intreccio in questi due fenomeni in queste due realtà ma alle volte proprio per certe volte perché i movimenti sono spiccatamente informali si fa fatica a trovarsi a metà strada ma secondo lei cosa io chiamo l'associazionismo classico quello più strutturato diciamo quello più granitico fa fatica a comprendere dei movimenti della loro natura più propria più o meno mi ha risposto prima c'è una possibilità di una collaborazione tra queste due realtà che comunque sono strutturalmente spesso diverse pensiamo a Fridays for Future che si ha le sue riunioni ma aggrega molte realtà all'interno questo le dico perché abbiamo per esempio nel primo numero intervistato Luca Paladini che è il portavoce dei Sentinelli di Milano che si occupa appunto si batte per l'LGBTQ+, tutto questo ambito qua e lui faceva nell'intervista molta fatica a riconoscersi sia nella veste del volontario eppure di volontariato ne fa tanto perché per organizzare un evento sia anche addirittura nella veste dell'attivista civico nel senso che scindeva proprio forse i diritti civili dal consesso civico insomma secondo lui ecco per questo mi è venuto in mente di chiederle se effettivamente è così scontato è così semplice che ci sia questo incontro a metà strada tra queste due realtà no semplice non è sicuramente perché noi l'abbiamo visto anche in altri momenti in cui organizzazioni di volontariato hanno agito nell'arena dei movimenti per esempio il Movimento per una Giustizia Globale il Social Forum Europeo c'erano anche organizzazioni di volontariato ben strutturate sia nel fronte cattolico sia nel fronte laico quindi c'era Oxfam ma c'era anche Pax Christi c'erano tante c'erano le organizzazioni ambientaliste e lì noi abbiamo studiato i concezioni di democrazia e ovviamente le concezioni di democrazia erano diverse anche se non antagoniste cioè lì si trovava spesso un consenso sulla creazione di arene deliberative eccetera però quello che era democratico per un'organizzazione strutturata quindi avere dei processi interni di decisioni strutturate eccetera non era la stessa concezione di democrazia magari dei centri sociali che però facevano tante azioni di volontariato perché anzi spesso le stesse organizzazioni di volontariato rispetto a casi difficili da affrontare all'interno delle regole strutturate magari si rivolgevano ai movimenti che avevano meno vincoli da questo punto di vista quindi da un lato è vero che c'erano diverse concezioni ma questo l'abbiamo visto anche per esempio con i sindacati al Movimento per una giustizia globale facciano parte i sindacati che avevano ancora un diverso tipo di concezione di democrazia o tutti i gruppi del commercio eco e solidale che erano gruppi che facevano attività politica di movimento però anche erano imprese di mercato facevano attività di volontariato quindi nella definizione di alcune organizzazioni la molteplicità di caratteristiche si note in questo contesto ibrido in alcune organizzazioni sì in alcune organizzazioni no quello che ho l'impressione che stia succedendo con sia la criminalizzazione il cosiddetto backlash quindi l'attacco al volontariato che è venuto sia in termini di riduzione dei finanziamenti che in termini appunto di stigmatizzazione da parte dei governi giallo-verdi di allora che però non è un processo solo italiano anzi è un processo europeo eccetera e che questo ha portato nelle organizzazioni di volontariato a riflettere di più sull'importanza anche di forme di protesta e di forme di partecipazione meno strutturate abbiamo avuto per esempio un incontro a Firenze con rappresentanti di Medici Senza Frontiere e lì la partecipazione di giovani attraverso i movimenti era vista come un elemento di una dinamica positiva che poterla portare a compensare per quel tipo di risorse che erano venute a meno perché anche in un certo tipo di volontariato i processi che erano stati osservati nel secolo scorso sulle organizzazioni socialiste e sui sindacati cioè il fatto che si creava una burocratizzazione una struttura bene organizzata dal punto di vista magari anche della democrazia interna ma dove i membri delegavano più che partecipare la percezione di questi limiti può portare verso una maggiore apertura anche in certi casi un po' un apprendere dai movimenti sociali e questo anche nel Global Justice Movement si era visto abbiamo parlato di in queste ricerche che abbiamo fatto di una sorta di appropriazione organizzativa cioè c'è un'ondata di protesta la protesta di per sé tende a durare poco può durare qualche mese massimo un anno però poi in genere le forme di protesta di rompenti per tante ragioni non che scompariscano ma si trasformano e in questi casi spesso non tutti gli attivisti dei movimenti ma alcuni decidono di entrare in organizzazioni più strutturate e appunto in passato si è visto nei sindacati anche alcuni partiti quindi questa dinamica di trasformazione interna di appropriazione organizzativa spesso la vediamo dopo ondate di protesta all'interno delle organizzazioni anche strutturate dall'altra parte la interazione con gruppi più strutturati porta anche a un dibattito all'interno dei movimenti perché i movimenti visibili nei momenti di protesta vivono sempre la tensione tra il doversi basare su strutture orizzontali grassroots eccetera e però il rendersi conto di alcuni dei trade off dei limiti che questo comporta decisioni durano molto anche la democrazia interna non è così partecipata spesso come si vorrebbe quindi questi dibattiti ci sono anche all'interno dei movimenti io credo che sia soprattutto problemi di fasi cioè quello che ho visto in momenti di crisi come crisi economico-finanziaria come la crisi dei migranti come la crisi della pandemia adesso è che queste crisi spesso creano occasioni di incontro perché gli attivisti che più o meno dal punto di vista dei valori eccetera stanno dalla stessa parte spesso poi si trovano a cercare di mettere insieme delle debolezze trasformandoli in forza e quindi si incontrano nelle azioni concrete anche il social forum globale il social forum europeo erano incontri tra soggetti molto diversi che erano dettati dalla consapevolezza che ci si metteva insieme oppure il nemico era troppo potente quindi che per fare qualche cosa sull'AIDS o su e poi questo quindi un po' trainato dai movimenti coinvolge anche il volontariato nelle fasi invece di minore visibilità delle azioni di protesta quindi delle fasi di riflusso il volontariato tende anche a recuperare energie spesso di nuove generazioni eccetera di attivisti che magari avevano esperienze nei movimenti stessi quindi appunto rispondendo in modo lungo alla sua domanda ma adesso sintetizzando penso che le tensioni ci siano però che spesso anche c'è una fluidità tra i partecipanti e un incontro in azione durante campagne che può portare a maggiori forme di interazione in questo frame diciamo che i social sono ampiamente usati da sempre dai movimenti ancora prima dei social nel tempo vicino in di media da prima di Genova durante Genova eccetera eccetera ma effettivamente al netto di una generalizzazione ovviamente i social possono essere veramente volano per i movimenti o c'è effettivamente quello che ormai chiamano tutti un rischio di slacktivism cioè di depotenziamento dell'attivismo soprattutto a livello personale non di massa ma di persone effettivamente nelle sue ricerche ha potuto capire queste insomma il ruolo dei social media effettivamente se funzionano anche su lungo termine perché magari i social media funzionano ho notato anch'io sul presente su attività di piazza magari specifiche sì ma poi reggono il tempo su questa cosa qua i movimenti e penso anche per il volontariato sia una condizione simile perché si rivolgono all'opinione pubblica hanno sempre bisogno di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione possibili nel senso che avendo bisogno di parlare a un pubblico ampio ai cittadini di coordinarsi eccetera già le ricerche sulla prima forma di comunicazione la stampa per il movimento operaio del ottocento la posta tutte le forme di comunicazione sono state importanti per l'evoluzione della partecipazione dei cittadini i nuovi media sono anche stati importanti sia i nuovi media della prima generazione quindi quella indie media le mailing list i web il web eccetera i websites sono state anche un modo di emanciparsi dal bisogno di avere un filtro nei mass media permettevano di interagire in maniera più diretta e con i social media questo è diventato ancora più si è rafforzata la capacità di partecipare anche del cittadino comune chiamiamolo in prima persona nel web cosiddetto 1.0 c'era sempre bisogno dell'organizzazione del web master con i social le principali trasformazioni sono sia il fatto che si partecipa in prima persona chiunque di noi può off tra facebook mescolando soprattutto le varie forme di comunicazioni telefonini la possibilità di fare filmati eccetera partecipare direttamente poi l'altra cosa importante è che si è passato dallo scritto all'immagine con i social media quindi posso fare fotografie film e così via questo ha trasformato molto il contenuto della comunicazione però quello che sicuramente abbiamo osservato in tante forme di protesta è che i social media da soli non sono sufficienti né a creare a sostituire forme di proteste di piazza in termini di capacità di rompente capacità di attrarre l'attenzione perché diventano un po' chiusi in se stessi c'è una manifestazione di quelle che sono state inventate attraverso i media che io mi registro come se partecipassi che io mi geolocalizzo eccetera può avere una funzione all'interno di contesti di forme molteplici di partecipazione ma da sola non ha la funzione di un corteo che i rompe all'interno di una città gli altri problemi che sono emersi sui social forum quindi con l'utilizzazione di questi mezzi sociali e che naturalmente anche altri attori li adoperano quindi mentre per esempio in condizioni di regimi autoritari permettono di bypassare la censura però sono anche soggetti a molti controlli quindi questo è anche un elemento importante un elemento importante è anche il fatto che nei mezzi nonostante la loro diffusione rimane una selettività tra chi sa utilizzare i mezzi ad alta tecnologia e chi no quindi alcuni movimenti sociali li adoperano molto poco perché la loro base di riferimento li adopera poco ma soprattutto sicuramente lo slack attivismo può essere importante come anche si è detto il membership card attivismo cioè il fatto che se ci si iscrive si dà un contributo a un'associazione di volontariato ci si assolve la coscienza e questo sicuramente c'è anche col media fai un click a una petizione ti sembra di partecipare però a me mi sembra ancora più importante il fatto che attraverso i media come sempre avviene l'empatia il tipo di conoscenza più approfondita lo sviluppo di forme di identificazione negli altri è molto più difficile quindi quello che si è visto per esempio già nel 2011 quando ci sono state movimenti degli indignados ma anche le primavere arabe la si parlava molto di tweeting revolution o facebook movements ma lì è venuto esattamente il contrario rispetto a queste immagini cioè al Cairo quando ci sono state le proteste che poi hanno portato a Tair e alla caduta del regime di Mubarak gli attivisti avevano capito che facendo soltanto una propaganda facebook non riuscivano a toccare le persone e quindi avevano fatto proprio per quelle manifestazioni cambiato strategia ed erano andati nei quartieri popolari fisicamente e poi avevano portato i cortei dai quartieri popolari del Cairo a incontrarsi a Tair sì quindi era proprio la percezione che invece bisognava incontrarsi questo penso che sia stata anche una lezione poi dei periodi di lockdown e delle fasi in cui si usavano molto i media anche nell'insegnamento anche teens e tutto quanto perché non se ne poteva fare a meno e se ne apprezzava il vantaggio come surrogato però allo stesso tempo anche si vedeva che non era la stessa cosa per di più sui social sicuramente quello che è emerso è che per loro natura gli algoritmi la proprietà privata di questi mezzi il fatto che sono spesso orientati al profitto più che all'attività politico l'impegno civico quello che si è visto anche è stato che questi mezzi sono più utilizzabili da destra che da sinistra sono più si prestano di più alla manipolazione da parte dei gruppi alla Bannon fortemente finanziati da organizzazioni di destra per creare teorie e diffondere teorie cospirative eccetera quindi questo lo vediamo concretamente anche adesso sulle teorie cospirative Novax sulla capacità di diffondere bugie attraverso questi mezzi che non è una diffusione delle bugie non è una cosa legata all'utilizzazione da parte degli utenti normali è manipolata si può manipolare proprio per le caratteristiche del medium i movimenti soprattutto di massa sono spesso esposti a sussulti un po' radicali e alle volte anche le spinte di frange violente mettendo insieme la sua esperienza quello che ha potuto osservare proprio per il movimento funziona più è un movimento che scenda compromessi e quindi a costo cioè che non scenda compromessi e quindi a costo anche di allontanare la maggioranza oppure quello che insomma paga di più la radicalità in termini di poi sussistenza e risultato oppure un approccio più soft che include una maggior fetta di popolazione ecco da questo punto di vista quello che abbiamo visto nelle ricerche su tanti movimenti è che le strategie sono spesso molteplici quindi visto che i movimenti non sono una organizzazione ma sono tanti quindi il movimento ambientalista c'è dentro Extinction Rebellion c'è dentro Fridays for Future c'è dentro Italia Nostra e diciamo quindi sono tante forme che spesso si collegano anche a visioni in parte diverse sulle soluzioni possibili ma soprattutto dal punto di vista strategico seguono percorsi diversi quello che abbiamo visto sempre di più all'interno dei movimenti sociali è il fatto che sono reti molto molto ampie per esempio stiamo studiando adesso la società della cura questa rete di diverse organizzazioni incluso organizzazioni che fanno azione di advocacy e volontariato sui temi dei brevetti sui vaccini ma anche sulla concezione della sanità pubblica con influenza del movimento femminista anche ecco quello che si vede lì è che sono i movimenti fatti da centinaia e centinaia di organizzazioni di tipo diverse magari ce n'è un paio di organizzazioni grosse strutturate anche organizzazioni tipicamente di volontariato dall'altro organizzazioni molto locali molto di quartiere più di città eccetera e quindi anche è raro che un movimento si concentri su solo alcune forme di azione in genere se ne intrecciano diverse e questo è anche un elemento positivo in termini di capacità di avere effetto perché si può giocare su più tavoli si può attirare l'attenzione attraverso varie forme e il tipo di partecipazione anche il tipo di reti che i diversi attori hanno è anche importante le diverse capacità per esempio se si seguono anche alcuni conflitti su temi ambientali contro la costruzione di alcuni impianti eccetera si vede che le organizzazioni le associazioni anche di volontariato ambientalista hanno più pratica nell'utilizzare sia i contatti politici che magari i contatti con i mass media le forme legali intervento nel senso attraverso denunce altar eccetera le conoscenze scientifiche però gli manca quella risorsa di attivismo che magari in questi molti casi viene dall'organizzazione dal basso dei cittadini dei comitati eccetera quindi in genere questo bilanciamento di diverse o convergenza di diverse tattiche a efficacia perché permette di mobilitare risorse di tipo diverso questo però all'interno di un certo numero diciamo di strategie che sono considerate come legittime da tutti i gruppi cioè se anche le le forme di protesta rimangono all'interno di forme accettate anche da chi magari non le pratica le forme di violenza come violenza contro le cose violenza contro le persone sono invece in generale forme che creano problemi sia all'interno dei movimenti perché poi allontanano la parte più moderata che anche nell'immagine esterna però la mia impressione è che di questo tipo nei movimenti progressisti di cui stiamo parlando adesso questo tipo di problemi che c'era negli anni settanta adesso si è molto ridotto fino a quasi scomparire lo vedo più nei movimenti a destra come i movimenti no vax o i movimenti no green pass che sono stati strumentalmente penetrati dalla destra radicale ma che vedono anche un tipo di partecipanti già spesso socializzati alla violenza tra gli ultra del calcio ma io mi rilascio anche a quello che lei ha scritto spesso riguardante più che altro il global justice movement che ha detto lei che non è finito a Genova ma pian piano diciamo si è spenta quella parte che era poi i forum sociali ecco mettendo soprattutto l'attenzione soprattutto sui controvertici alla fine ecco quanto è importante allora trovarsi come dicevamo a metà strada in un luogo dedicato per trovare la summa per tentare di trovare un avvicinamento cioè questa cosa veramente insegna anche qualcosa al volontariato che magari queste istanze le porta dentro il movimento questo qua è un insegnamento importante rispetto alla buona salute di un'organizzazione ma anche di un movimento sì no senz'altro sia nel movimento dei social forum che in forme diverse anche nelle proteste anti austerity l'idea di ricostruire una polis ricostruire un'arena di dibattito costruire luoghi in cui ci si incontraste tra diversi non con i fascisti ma appunto tutte le descrizioni dei social forum soprattutto tutti all'inizio erano ma ci sono insieme i boy scout e le tute bianche di Casarini come si incontrano o a Genova le suore e le femministe o a Gacy Park i tifosi del Galata e i trans come ecco quindi questo spazio è importante il social forum era uno spazio dove spesso anche se non esclusivamente ci si incontrava però tra associazioni associazioni gruppi eccetera le piazze del movimento anti-austerity erano più anche orientate al cittadino semplice che ma però questa creazione di spazi è molto importante e secondo me spesso questi spazi si creano poi nelle azioni concrete appunto nell'intervenire sulla indifesa dei migranti dei rifugiati o rispetto al covid cercando di portare aiuto ai gruppi si crea sul tema dell'ambiente perché si crea per esempio attraverso gli interventi spesso anche concreti quindi sempre non dico che è facile però gli spazi sono importantissimi e spesso quello che è importante è che siano spazi che permettono di capirsi anche magari mantenendo le diversità e che permettano di fare delle cose anche non solo di parlarsi ma che siano orientati anche a fare delle cose insieme perché penso che è anche lì che c'è una sorta di trasformazione reciproca e si crea anche questo tipo di solidarietà ovviamente si possono creare anche divisioni e uno dei rischi è stato individuato anche da noi studiosi ma anche dagli attivisti stessi e che magari la ricerca del consenso possa ridurre la capacità di prendere posizioni su temi importanti o che richieda troppe energie rispetto al fare parlare richiede troppe energie rispetto al fare quindi tutti questi sono sicuramente problemi rilevanti però la creazione di spazi di incontro appunto fisici non solo online perché è utile per fare la nostra intervista però questa secondo me è una cosa importantissima per i movimenti e che infatti in diverse forme li hanno cercati tutti ora alcuni movimenti per esempio i Fridays for Future hanno avuto questi momenti di mobilitazione molto visibili e poi però una struttura molto lasca un po' se lo sono potuti permettere perché essendo soprattutto giovanissimi che si incontravano a scuola eccetera trovavano anche lì i modi per interagire però anche adesso quello che stiamo vedendo in questa fase nuova della pandemia è che c'è da parte di diverse organizzazioni un tentativo di creare coalizioni fronti comuni tipo Fridays for Future insieme a non una di meno insieme a PKN quindi andando al di là dei singoli punti punto Fridays for Future e non una di meno hanno scelto però due strade diverse cioè simili dal punto di vista dell'organizzazione ma una ha scelto Fridays for Future di diciamo aggregarsi intorno a una figura forte come Greta Thunberg l'altra invece non ha una figura forte queste due scelte quale di due modelli paga di più a lungo termine a livello di sopravvivenza strategica cioè perché poi credo che esista anche come anche nel noi abbiamo incontrato in diverse associazioni il culto della personalità cioè delle associazioni che magari hanno avuto un fondatore carismatico alla fine della quando viene in me il fondatore carismatico si spegne anche questa missione associativa ma questo credo che funzioni anche per i movimenti quale dei due sta giocando la partita a lungo termine rispetto alla loro missione secondo me è difficile trovare la ricetta giusta perché anche diversi movimenti o in questo caso più organizzazioni di movimenti perché magari sul fronte dell'ambiente ci sono anche altri gruppi sul fronte del femminismo ci sono anche altri gruppi ma se guardiamo queste due reti di movimento probabilmente la diversità è anche in parte legata alle diverse caratteristiche della base di riferimento e tradizioni del movimento stesso perché per quanto riguarda non una di meno è molto radicato nelle tradizionali riflessioni del movimento femminista che sono più orientate all'orizzontale rifiuto della leadership eccetera Fridays for Future mobilità giovani e giovanissimi e utilizza anche dal punto di vista comunicativo una forme che per questo tipo di partecipanti possono risuonare anche con il tipo di abitudine per esempio nell'utilizzazione dei media quindi la presenza non di un leader tradizionale cioè non di un leader come era un leader di un sindacato di una volta di un partito di una volta quindi non un leader che controlla l'organizzazione però un leader con forte presenza mass mediatica può corrispondere almeno temporaneamente ai bisogni di un movimento che si è costruito molto basandosi sui media sui social media quindi che mentre non una di meno c'è molta più presenza al di là dei momenti di visibilità molto più radicamento dei vari collettivi Fridays for Future più movimento mediatico quindi le funzioni di alcuni di questi personaggi visibili sono quasi funzioni di influenza è un po' quel tipo di dinamica non c'è solo questo perché poi quando abbiamo studiato i Fridays for Future c'erano anche tanti attivisti che non si definirebbero leaders ma che erano molto più collegati alle visioni tradizionali però sin dall'inizio la figura di Greta e le altre figure che in diversi paesi si sono accompagnate sono appunto figure che hanno utilizzato molto i social media i media in generale la presenza mediatica la mia impressione è che in generale le organizzazioni di movimento sociale non durano tanto nel tempo con quel nome e quella con lo stesso nome e la stessa struttura organizzativa e quindi neanche spesso l'obiettivo principale è quello di sopravvivere con un'asila io penso che il radicamento di gruppi come quelli di non una di meno possa anche portare a una maggiore resilienza anche nei momenti di bassa mobilitazione non una di meno è anche un movimento molto più omogeneo dal punto di vista delle posizioni teoriche visione del mondo eccetera i Fridays for Future anche rivolgendosi a persone molto più giovani tendono a mobilitare sulla base di slogan più semplici e meno radicati in un discorso più complessivo infatti si vede anche la differenza nel fatto che non una di meno tende a offrire anche visioni complessive i Fridays for Future molto spesso hanno detto non sta a noi dire quali sono le risposte si concentrano sul tema del climate change e questo secondo me alla lunga può essere anche un po' una debolezza perché in quello che emerge ovviamente che non è solo un problema al momento di trasformare la crescita sul carbone in crescita in energie rinnovabili che tutte anche le energie rinnovabili hanno costi di estrazione nel sud del mondo e hanno costi di occupazione di natura e territorio e su questo le posizioni di Fridays for Future restano molto eterogene fra gli attivisti che hanno un'opinione più elaborata e molto semplificate nell'appello generale e l'ultimissima quale veramente la lascio andare la curiosità per le lettrici lettori di Vodossie qual è un movimento che di solito magari noi come italiani ignoriamo perché noi siamo bravi magari a tenere d'occhio le cose che sono nel nostro giardino e ci perdiamo il kaleidoscopo cioè insomma abbiamo tutto un mondo intorno a noi cosa sta succedendo adesso nel mondo che magari state studiando voi che è utile tenere d'occhio che magari qua in Italia non viene ancora ben inquadrato da noi dai mass media c'è qualcosa che può essere interessante da seguire ci sono tante cose secondo me ma questo può essere legato anche al mio particolare interesse in America Latina stanno succedendo tante cose molto interessanti anche perché si è avuto in America Latina un momento di grandi speranze di trasformazione poi un momento in cui sembrava che invece prevalesse la reazione repressione a destra e tutto questo ma mi sembra che lì in paesi come il Cile in particolare si dimostri una capacità molto forte non solo di resistenza ma anche di innovazione quindi in Cile è successo che nel 2019 c'è stato questo grande movimento molto partecipato molto partecipazione giovanile nato da una cosa quasi rilevante un aumento di un prezzo di biglietto nel trasporto pubblico e questo però ha portato grazie anche alle reti del movimento studentesco che era stato in Cile molto importante molto attivo a un grande movimento che ha trasformato completamente il paese nonostante la pandemia quindi loro sono riusciti a abrogare la costituzione di Pinochet quindi a creare un percorso partecipato dal basso per la costruzione della nuova costituzione quindi a dimostrare anche che le trasformazioni richiedono ancora una volta spazi di incontro ma anche una capacità poi di penetrare le istituzioni attraverso delle trasformazioni anche importanti quindi quando si parlava delle meglio strategie moderate o meglio strategie più radicali in queste circostanze si vede la capacità di intrecciare queste diverse strategie e in paesi in un continente come l'America Latina in paesi in alcuni paesi in particolare lì si vede anche l'importanza di movimenti che riescono a mettere in contatto gruppi sociali cultura culture eccetera differenti perché per esempio in America Latina c'è una fortissima componente di popolazione indigena soprattutto in alcuni paesi in Cile è stata importante e quindi c'è una crossfertilizzazione tra visioni del mondo diverse questo secondo me è interessante soprattutto è interessante guardarlo perché spesso si è pensato che tutte le innovazioni venissero dall'ovest o dal nord e andassero verso il sud mentre invece secondo me questo è uno dei momenti in cui si può imparare molto dal sud è un po' Grazie.